Bentornati ragazzi, bentornati sempre sul canale FedeCompany, siamo andiamo qua su The Last of Us Oggi faremo una bella partita a caccia di fornimenti, chiaramente, modalità online e spero che vi piaccia, spero di non fallire troppo perché se no... se ci troppo tempo da aspettare taglierò il video perché bisogna andare solo al sodo, questo canale si va solito al gameplay, al sodo proprio dai 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 se sentite il telefono vibrare chiaramente sono sempre al canale quindi sempre google plus città natale, torre idrica, torre idrica, dai torre idrica, torre idrica, si sono al posto io uso questa qua, questa classe qui da un po' che non ci gioco quindi forse magari prenderò botte ai di santa ragione da un po' tutti, ricordiamo a tutti che siamo su playstation 4 quindi... ma questa è la storia quindi è The Last of Us of Us of Mustard mi sentite un po' assornato perché è mattina quindi fate poco i cattivi guardiamo che questa è caccia e rifornimento quindi bisogna... bisogna ammazzare e basta senza interrogare via dicendo quindi... ecco... 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 non ci penso io... non vai a ucc... lui... no non ho cura... Aspetta, ti ricuccio io. Eh sì. Lo apprezzo. Grazie. Via, via, via. E poi... Quanto è brutto. Non posso costruire niente. Eh, ha fatto una stronzata. Niente. Sto arrivando uno. Ancora lì. Porco. Va bene. Era giusto per iniziare. Chiaramente uno a zero. Vabbè, do male che perda. Inizialmente... Cacciatore! Dicono che sei più fresco quando ti alzi al mattino e fai qualcosa. Non so quanto possa essere vero. Ce n'è uno. Finito. Andiamo. Un vagabondo in meno di cui preoccuparsi. Ma che cazzo? Ma che l'ha visto? Camadosca. Eh, vabbè. C'è da dire che è anche difficile registrare, commentare, giocare. Bisogna essere abbastanza multitasking, diciamo. Qui ci sto a provare ogni volta che attacco la registrazione. Poi The Last of Us è un gioco proprio che ti prende totalmente. Ok, ci sono. Le risorse in... Quelle attuali, quindi. Finito. Andiamo. No. Oh. Versaglia a terra. Teso. Beh, ne ho fatto fuori uno. Non male. Ok, è andato un altro. Cazzatore, in guardia. Un altro. Bestia. Bomba in buca. Eh, merda, che palla. Stavo che... Oh, mi prendo le risorse di Dio. Oh. Ok, ho fatto fuori un altro. La merda. Vabbè, dai. Eccolo lì, è l'altro schifoso. Ho finito. Muoviamoci. Beh, curiamoci, va, intanto. Sì, ma mi deve dare i tuoi ettri per questo. Ok, ci sono. Fumogena! Fumogena? C'è un altro. Ho bisogno del bastone. Ok, ci sono. Potenziamento. Vai. Vabbè, dai, almeno l'ho ucciso uno. Ho avuto su giù uno. Sì. Questo non bisognerebbe mai farlo, perché... di farlo fuori a prescindere, cioè. Vai. 3, 2, 3. Potrei fare molto meglio, ma... Chiaramente... Ci ho già detto che non è semplice, cioè, stare concentrati lungo in play, registrare, fare... Ho perso il bastone, ma comunque... Ok, andiamo sempre stealth, perché... Se no, ci sentono, gli stranzi. Ok, mi divido sempre dal gruppo. Ok, fatto! Fatto così, questione di scelte. Ce n'era uno qui. Vagabondo! Da quello non si ripiglia più. Ok. Vabbè, ci stai. Ah, no, 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 scappo, scappo. Scappo perché non ho la... Fanno proiettili, nel... Ok. Ok. Oggi si è accettato. Oggi si è accettato. Posso combattere. L'ho preso Erano in due Sì però mi manca L'esecuzione finale Porca miseria Porca miseria Non riuscire ad abbatterli proprio Cioè ad ucciderli invece non riesco mai Bomba innescata, in guardia Sono otto rinforzi Forse l'ho ucciso Vabbè dai Saffanculo Grazie grazie Sei un grande Oh ma salvami Finocchio Che finocchio Non ce l'ho con i finocchi eh Cioè è tutto casuale Il commento Esattamente Professionale di finocchio Però ragazzi Così L'ho preso Preso di nuovo Ci penso io Dai dai che sta arrivando il fro C'è la guerra nucleare Attenzione bestia Cazzo eh Eh oh Dai dai La donna le mazzate proprio Madonna Eh sì 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 Match combattuto Siamo 5-5 Anche un bel match Quindi Eh Non ci facciamo stuprare da dietro Cazzo Hanno tutti quanti La cacchio di cose La coraggio di Dio Guarda lì Finocchi Adesso la facciamo Ok ci sono Ok ci sono Ultimo sangue Miii che abbiamo perso Raga praticamente Tutti corazzati Madonna Un attimo Finito Andiamo Potenziamento all'arma Madonna Adesso Tanti stanto Vengono lo stesso Ci fanno Un cuore Non sarà così Sta arrivando già uno Eccolo là Madonna Ragazzi Madonna Cristo Ma ti levi dai coglioni Parca troia Vabbè 6-7 Vabbè Non ho fatto così schifo Ragazzi Vabbè Eh 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 Sì Non sono uno che rianima Più che altro Quelli lì hanno Lullato per i cazzi Loro Facendo le animazioni Sennò avrei fatto Più punti Comunque Vabbè Però vi sia piaciuto Lo stesso Come ho giocato Dipende anche Dalle partite Quindi La storia è questa Bene ragazzi Noi ci ribecchiamo Al prossimo episodio Scusate se sono stato Un po' moschetto Ma il discorso è che Mi sono appena alzato E niente ragazzi Ci ribecchiamo Alla prossima Non mancate Perché siamo sempre Su The Last of Us E magari faccio Un interrogatorio Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti